Isola 2022, mancamento per Laura Maddaloni, la naufraga lascia la diretta La moglie di Clemente Russo, protagonista anche di qualche scontro, si sente male in puntata e deve recarsi dal medico Laura Maddaloni deve lasciare la diretta dell'Isola dei Famosi 2022, nel corso della puntata di venerdì 29 aprile 2022 La moglie di Clemente Russo ha un piccolo mancamento durante la prova ricompensa Il tutto accade, appunto, quando insieme ai suoi compagni d'avventura si ritrova a dover superare un percorso davvero difficile Per i naufraghi in palio ci sono le bistecche. Un percorso a ostacoli, dove gli ostacoli sono gli stessi concorrenti Ognuno di loro deve superare tutto il resto del gruppo arrivando sino alla fine e camminando su un palo di legno di pochi centimetri Tutti insieme hanno scelto di non far partecipare alla prova Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro Il seno di quest'ultima, per questa prova, risulta troppo prosperoso Dunque, si preparano in fila, aiutandosi l'un l'altro, per riuscire a conquistare la maggior parte delle bistecche Il numero della carne corrisponde a quello dei naufraghi A dare inizio alla prova ci pensa Roger Balduino, che riesce nell'impresa A seguirlo è Clemente Russo e subito dopo sua moglie Laura Maddaloni Quest'ultima, in effetti, quando arriva nella postazione appare un po' provata Nel frattempo, è il turno di Alessandro, che porta a termine il compito Nicolas Vaporidis non fa in tempo a raggiungere la postazione entro i quattro minuti prefissati per questa prova ricompensa I naufraghi vincono così quattro piatti di bistecche, che devono mangiare tutti insieme Ma ecco che a ritorno in Polopo, Alvin informa Ilari Blasi che Laura Maddaloni non si trova lì con loro All'isola stasera la moglie di Clemente Russo ha un piccolo mancamento Questo ciò che racconta l'inviato speciale, il quale poi assicura che il medico garantisce che è tutto a posto Dunque, nulla di grave per Laura, che però non prosegue la puntata insieme ai suoi compagni d'avventura Prima di affrontare questa prova, la Maddaloni ha sfidato Gwendalina Tavassi Isola dei famosi, fratelli Tavassi vs. coniugi russo Gwendalina ed Edoardo Tavassi conquistano la scena in questa edizione del reality show Con un'ottima percentuale, entrambi i fratelli si salvano dal televoto Prima, però, affrontano Clemente Russo e Laura In questi giorni, ci sono stati dei litigi tra loro a causa dei cocchi Gwendalina durante il confronto, a inizio puntata, non trattiene il suo pensiero, come fa anche la coppia A me fanno paura Se mi si alza una Laura e un Clemente, ho paura sì A parole posso parlare, ma se c'è da fare altro Inoltre, la Tavassi si dice convinta di avere ragione Si va oltre, con Clemente e Laura che fanno presente di aver visto Gwendalina inserire le pizzette nel lato B Si mette la pizza nel Q.O Dichiara la Maddaloni, mentre il Ari Blasi chiede di moderare i termini In ogni caso, non si arriva a un chiarimento e il pubblico si schiera apertamente dalla parte dei Tavassi